Allora, iniziamo a vedere insieme un esercizio relativamente semplice, che è un po' di ripasso di quello che avete visto, programmazione oggetti su classi, collection, eccetera, e un po' anche di reinquadramento, così impariamo insieme a ragionare sulla costruzione e sulla scelta delle strutture dati, facendo questo esercizio ho fatto su più punti, che si chiama libretto voti, ne faremo alcuni di questi punti, ciascuno dei quali in qualche modo è un pretesto per andare a scoprire una trappola o qualche aspetto particolare di gestione delle liste essenzialmente, che poi estenderemo su nuove strutture dati, ma per ora ripartiamo da cose che già in qualche modo sapete. Io lavoro direttamente a questo punto sul progetto che c'è su TDP 2023, non sul fork che ho fatto, e quello che farò è quello di creare un branch che chiamo soluzione, in modo che nel branch master rimane il testo del progetto e basta. Nel branch soluzione invece ci sono i pasticci che facciamo in aula, ve li potete vedere, anche su GitHub poi si può selezionare da qui, scegliete i vari branch che ci sono. Faremo così anche per i laboratori, cioè nel branch principale c'è il testo e poi facciamo un branch che si chiama soluzione che vi potete andare a scaricare, guardare quando volete, però rimane separato dal vostro lavoro, separiamo il testo delle soluzioni. Ma su questo, se voi lavorate in parallelo sul vostro progetto non vi tocca questo altro branch, semplicemente per avere poi alla fine un luogo in cui ci sia l'esercizio che abbiamo fatto insieme. Allora, cosa chiede di fare questo progetto? Questo progetto inizialmente vi chiede solamente di… ho creato un progetto JavaFX con tutto, ma in realtà per il momento non usiamo ancora la parte grafica, la aggiungeremo poi in un secondo momento perché voglio concentrarmi sulla parte di gestione delle strutture dati. Ok? Lavoreremo in una cartella, in un package che si chiama, creato già nel progetto, si chiama model. Capiremo la prossima settimana perché l'ho chiamato model. Diciamo che tutta la parte di gestione dei dati e di algoritmi la salveremo sempre, avremo una parte del progetto principale che contiene il controller, la parte grafica, un package model che contiene tutti gli algoritmi e un altro package database che conterrà invece l'accesso ai dati. Terremo separate le cose e poi cercheremo di capire come organizzare il codice in modo da farle collaborare per bene. Quindi io all'interno di questo model ho creato una prima classe libretto vuota con cui lavoreremo e poi un file test libretto che contiene il main, da cui poi chiameremo, faremo un main di prova per chiamare i metodi di libretto. Non abbiamo test automatico qua ma semplicemente ci facciamo una classe di test per testare il libretto. Quindi il main con cui lavoreremo in queste due lezioni in cui lavoreremo su questo progetto sarà il main interno a questa test libretto e implementiamo la classe libretto e poi implementiamo qualche metodo di test. Allora cosa ci chiede di fare questo esercizio? Ci chiede di creare una classe voto che contenga il nome di un corso, il voto ottenuto e la data dell'esame e una classe libretto che gestisce un elenco di voti. La classe libretto deve avere un metodo add per il caricamento degli esami. Quindi abbiamo una piccola struttura dati che ci viene già suggerita. Questa forse è l'ultima volta in cui vi suggerisco la struttura dati, nel senso che la struttura dati poi normalmente ce la dobbiamo inventare, progettare partendo dalle caratteristiche del problema. Non capita mai nel mondo reale che uno ti dica guarda questa è la classe che devi fare con questi campi, ce la dobbiamo inventare noi partendo dall'informazione, però all'inizio facciamo ancora così. Quindi noi abbiamo un oggetto voto che dobbiamo creare che è la classe libretto che deve gestire un elenco di voti. Quindi creiamo sempre nel mio package model, una classe che chiamo voto e che conterrà tre proprietà diverse che sono, ci diceva il testo, il nome dell'esame, c'è scritto qua, il nome del corso, il voto ottenuto e la data dell'esame. Quindi avrò tre proprietà che sono una stringa che è il nome del corso, avrò il voto ottenuto che adesso non mi dice nulla sui 30, 30 lode eccetera, ma per ora possiamo ipotizzare che sia un numero intero. Qui ho un problema di terminologia perché mi verrebbe da chiamarlo voto, ma voto si chiama già la classe e quindi non vorrei poi confondermi con voto nel senso del numerino e con voto come oggetto che invece ha l'informazione su tutto. Quindi questo fatemelo chiamare punti. Quindi da 18 a 31 diciamo. Così col 31 rappresentiamo il 30 lode. E poi abbiamo la data. Dobbiamo memorizzare anche la data, così purtroppo ci dice. Allora, anche se sempre private. Voi forse siete abituati a usare date, oppure non siete abituati a usare le date, cosa che è meglio. Più avanti vi racconto perché è male usare l'oggetto date che è nella libreria standard Java, perché fa pena. E noi useremo un oggetto che si chiama local date per rappresentare informazioni temporali. Per ora non ci facciamo molto, quindi lasciamolo lì e poi ne parleremo con calma su come gestire. Gestire le date e i calendari sono una delle cose più rognose in qualunque linguaggio di programmazione, ma proprio perché il calendario è una cosa che è fatta male, è inventata storta e quindi le librerie la implementano in modi ancora peggiori. Local date è una class di una libreria predefinita Java, quindi non stiamo importando librerie strane, c'è una libreria che si chiama java.time, che dobbiamo importare e mi dà una serie di oggetti che fanno meno schifo degli altri, non tutto sommato facile da gestire. Si chiama in questo caso local date. Possiamo chiamarlo data esame. Questo campo. Ok. I campi ovviamente sono tutti privati e creiamo i metodi per poter usare questo oggetto. E i metodi minimi per poter usare questo oggetto sono il costruttore e l'accessor method, quindi getResetter. E poi toString, hashCode e equals. La famiglia dei metodi minimi che ci facciamo ovviamente aiutare da Eclipse a generare, quindi source genera il costruttore dai campi e quindi ho il metodo in cui gli dico quali campi voglio usare nel costruttore e me lo faccio generare, quindi crea il costruttore partendo da questi tre campi, corso, punti, data esame. E poi per tutte le variabili che vogliamo rendere modificabili o leggibili o accessibili dall'esterno ovviamente creiamo i metodi getSet, quindi sempre nel menu source abbiamo generateGetSetSetters in cui diciamo di quali proprietà, di quali proprietà di questa classe vogliamo creare il metodo get e il metodo set. In questo caso normalmente se non abbiamo motivi particolari, tutti. E lui mi ha creato tutti i getResetter, che sono il minimo di cittadinanza di una classe per poter essere usata da altre classi java, costruttore, getResetter, altrimenti non ci posso fare quasi nulla. Poi eventualmente potremmo aggiungere altre classi. Vedete già che è comparso il punto interrogativo di una classe voto perché non l'ho ancora fatto commit, non l'ho ancora aggiunta, ma quello ce ne preoccupiamo. Ok, questa classe voto qua serve per gestire le informazioni minime che ci sono richieste su questi voti e il testo però ci dice, questo è un singolo voto in un singolo esame, fai una classe libretto che gestisca un elenco di voti. Allora facciamo la prima semplice, poi eventualmente ci andiamo a complicare le cose. Allora gestire un elenco di voti vuol dire che la mia classe libretto conterrà alla fine, per farla semplice, una lista di voti. Quindi private list voto voti. Cioè crea, contiene, gestisce il libretto una lista di voti. Ovviamente list, devo andare a prendere java.util.list di oggetti di tipo voto. Ok? Noi quando definiamo una variabile cercheremo sempre, dove esista, di definirla usando un'interfaccia e non una classe. Noi sappiamo che ad esempio di lista ci sono almeno due implementazioni che conosciamo bene che sono ArrayList e LinkedList, ma la scelta tra ArrayList e LinkedList non dovrebbe influenzare il funzionamento di questo oggetto in nessun modo. Sono due classi che implementano entrambe la stessa interfaccia. Allora, ovunque possibile useremo l'interfaccia, in modo che l'unico punto in cui dovremmo decidere o ragionare o sapere se si tratta di un ArrayList o di una LinkedList è quando lo creiamo. Chiaramente quando faccio new devo scegliere quale classe creare. Ma tutti gli altri metodi, tutti gli altri oggetti che fanno riferimento a questo, vedranno sempre solo list, in modo che se domani dovessimo modificare, da ArrayList a LinkedList o viceversa, oppure un altro tipo di implementazione della lista, modifichiamo la creazione dell'oggetto e tutto il resto del programma continua a funzionare. Quindi la definisco così. La classe stessa non sa, la maggior parte dei metodi di questa classe non saprà che tipo di lista concreta stiamo usando. Sa che stiamo usando un oggetto lista che ha i metodi previsti per la lista, quindi sappiamo quali sono tutti i metodi che una lista supporta, che sono, vabbè, non sono elencato qua direttamente. Ok, e poi abbiamo anche qua, il nostro libretto avrà un costruttore, quindi qua, crea il costruttore e quali campi richiede questo costruttore? Beh, sicuramente non la lista dei voti, ma non avrà nessun parametro questo costruttore perché quando crea un libretto, questo libretto nasce vuoto e poi i voti li costruisce lui. Ok? Questo qua non abbiamo superclasse, quindi non ci serve. Quindi un costruttore senza argomenti e che cosa fa il costruttore come prima cosa? Vabbè, ovviamente si inizializza le variabili su cui deve lavorare. Quindi this.voti uguale new, che insomma mettiamo arraylist di voto. E anche qua arraylist ce lo andiamo a importare. Ci fossero altre strutture dati da inizializzare, le inizializzeremo nel costruttore. Quindi per ora la classe del libretto è una classe che incapsula una lista. Non la rende visibile all'esterno, ma perché dovremmo rendere all'esterno visibili solamente alcune operazioni su questa lista. Non ci hanno detto crea una lista di voti, ma crea una classe di libretto per gestire una lista di voti. E questa gestione non sarà semplicemente in metodi di una lista. Non basta fare una lista di voti perché magari non posso cancellare, aggiungere, modificare dei voti a piacere. Posso farlo solamente secondo certe regole che sanno i metodi che la classe di libretto espone. Il primo di questi metodi che ci viene richiesto è qua. La classe di libretto deve avere un metodo add per il caricamento degli esami. Quindi la classe di libretto avrà un metodo add, public, void, non lo so, poi pensiamoci, add di un voto. Adesso vi scrivo due possibili implementazioni, mi dite quale preferite. Metodo add, ci hanno detto fai un metodo add, a me vengono in mente due metodi add, uno che prende un oggetto voto, l'altro che prende invece le proprietà che servono per creare un oggetto voto. Quale facciamo? Chi vota la seconda? Io farei la prima, ma senza pensarci due volte. Perché? Perché se un domani uno volesse aggiungere al libretto l'informazione su quante volte hai tentato l'esame o un'altra, qualunque altra informazione, basta andare a modificare la classe voto e l'implementazione di questo metodo add non ne ha bisogno. Cioè l'oggetto voto ha dei campi, ma la classe libretto per quanto possibile non deve essere legata alla struttura interna dell'oggetto voto. Ovviamente il libretto per poter lavorare ha bisogno di alcune informazioni, quindi non è che dal voto posso togliere il punteggio, il campo punti e il libretto non se ne accorge, ma se io in voto aggiungessi altra roba, il libretto deve continuare a funzionare. Quindi meno dipendenze ho tra le varie classi, meno una classe ha bisogno di sapere a proposito delle proprietà di un'altra classe e meglio è. Quindi per ora implementiamolo così. E cosa devo fare per aggiungere un voto al libretto? Beh, implementazione becera, ho una list, ci aggiungo un elemento in fondo. Dico becera perché non sto facendo nessun controllo, ma posso fare a this.voti.add.dv. Questa operazione che abbiamo fatto, ho un metodo add a livello di libretto, che chiamo un metodo add a livello di proprietà interna, la chiameremo delega. Ho delegato la lista di fare l'operazione. È un pattern che si usa molto spesso. Creo una classe, offro dei metodi che poi a loro volta delegano a delle classi che ho dentro di me. Questa è una delega cieca, perché aggiungo qualunque cosa sia v, l'aggiungo alla lista. Se v è null, se v è un voto che non esiste, se null è, l'aggiungo lo stesso. Se la classe libretto fosse un pochino più furba, beh, questo metodo quad, prima di aggiungerlo effettivamente, potrebbe fare una serie di controlli. Se v non è nullo, se il corso non esiste ancora, perché non posso aggiungere un secondo corso se l'ho già dato, cose via, e cose del genere. Se il punteggio è corretto, eccetera eccetera. La prima versione abbiamo detto aggiungilo e va bene così. Questo, il fatto di poter andare a fare dei controlli prima di aggiungere il voto v, è il motivo per cui ci serve la classe libretto. E non dico, vabbè, senti, fatti un array list di voti e poi lavora lì. No, perché voglio che vengano gestiti in modo controllato. Io tra l'altro vado a vedere che il metodo add delle classi che implementano l'interfaccia list. In realtà non è un void ma è un boolean. Dovevate? You know? Perché adesso boolean che ritorna? Non ho idea. Ritorna vero. Ok? Cioè ritorna un valore boolean che è sempre vero. Allora, se vogliamo fare i fini e vogliamo che questa operazione sia più simile possibile all'add della lista, visto che sto ragionando in termini di delego un'operazione o un'altro, creo questa mia funzione in modo simile. Quindi faccio ritornare anche l'ion boolean e faccio restituire ovviamente ciò che viene restituito dall'add, che sono sempre true. Pazienza, dai. Quindi prima era dubbioso se mettere void o altro, adesso vado a vedere in questo caso se qualcun altro ci ha già pensato a fare questa funzione con questi parametri con questo valore di ritorno, ci ha pensato più di me di sicuro e quindi lo copio. E poi non ho finito finché non ho documentato ciò che fa la funzione. Quindi barra, asterisco, asterisco, invio e Eclipse ci predispone il blocco di documentazione per quel metodo. Quindi aggiungi un nuovo voto al libretto. Per ora non fa nessun controllo. V è il voto da aggiungere, return true. No. Io non vorrei insegnarvi a dare l'esame, vorrei insegnarvi a programmare. Però l'occupazione serve a noi stessi. All'esame non c'è molto tempo per fare le cose, c'è quei crismi. Però questa documentazione serve non tanto perché mi piace vederla, ma perché poi quando in un'altra classe useremo questi metodi, almeno quando ci vai sopra il metodo ti ricorda che cosa fa quando ne avremo 27, non solo più uno. Ok? Tanto ci vuole veramente un secondo. Ok. Poi cosa dobbiamo fare? Testare se questa cosa funziona. Sviluppare un programma di test schede attivi inserendo nel libretto un elenco di 10 oggetti vuoto a piacere. Allora, andiamo a questo punto sulla classe test libretto che crea un libretto e ci mette dentro 10 voti. lui dice a piacere. Va bene. Allora, creiamo libretto lib uguale new libretto e poi ci devo mettere dei voti a piacere. Ovviamente chiamerò lib.add e gli devo passare degli oggetti vuoto perché abbiamo scelto che il metodo add avesse bisogno già di un oggetto vuoto per poter lavorare e quindi posso creare un nuovo oggetto vuoto a cui passo i tre parametri che sono il nome del corso, analisi 1, il punteggio 29 e poi una data, vi chiedo però di copiare poi come dicevo di localdate.ov anno mese giorno, quindi 2021 per dire mese febbraio 15. La data. Se non avete voglia di scrivere queste cose scrivete null, tanto non stiamo facendo nessun controllo. E poi la stessa punte virgola e poi posso aggiungere altri voti, add new voto di fisica u fisica 2, 21 che non so, localdate of, 22, questa è la fezzata da giugno, quello che è insomma, localdate. il testo dice di metterne 10, ne mettiamo due e siamo già contenti, non abbiamo voglia di scrivere. Quindi questo è un primo test che possiamo fare, proviamo a eseguire questa classe, vabbè, devi salvare le cose, per fortuna non si è piantato nulla, non è andato in crash, non è andato in eccezioni, però non sappiamo se ha fatto qualcosa. Per vedere qualche cosa dovremmo riuscire a verificare che i dati siano stati correttamente inseriti. Lo possiamo verificare o in debug oppure mettendo delle stampe in più, stampando alcune informazioni. Allora, magari andiamo in debug, mettiamo un bel breakpoint qua e poi eseguiamo lo stesso programma in modalità debug. ok? Quindi adesso ho attivato il programma in modalità debug anziché in modalità esecuzione normale, avendo messo un breakpoint alla riga 9, il programma si è fermato prima dell'esecuzione della riga 9 e dove sono finiti i comandi di debug, sono queste freccioline qui, conoscete no? E quindi entro dentro la creazione di libretto, dovrebbe essere banale la sua esecuzione perché semplicemente, cosa mi fai fare? Dove vai? Dove siamo finiti? Vabbè, il libretto l'ha creato. Ha creato una classe lib che contiene un oggetto voti che per il momento è nel rail list vuota di zero elementi. Se voglio vedere l'aggiunta, qui mi sta creando la data, va bene, non voglio… crea il voto e poi il testo d'ingresso entro dentro la classe add di voti e ovviamente dovrà aggiungere voti e adesso avrà un elemento solo, un elemento che è il primo voto che ho aggiunto, che però quando viene visualizzato purtroppo viene visualizzato così, perché ci manca il metodo toString per visualizzare il contenuto del voto. e così via, posso andare avanti e vedere che dopo il secondo add la lista voti all'interno del libretto contiene due elementi che però per il momento stampa solamente l'indirizzo perché non ho definito il toString per stamparlo. Quindi magari mi conviene anche, torniamo in visualizzazione java, aggiungere dei metodi che mi permettono più comodamente di stampare. Non è chiesto dal testo però, al libretto potremmo aggiungere un metodo stampa che semplicemente stampa il contenuto dei voti. Quindi for voto v in due punti, scusate, this.voti, system.out.println, println, println, di v. In modo che poi alla fine, dalla classe testlibretto, dopo che ho aggiunto queste cose, posso chiedere al libretto di stamparsi. Ovviamente la classe testlibretto non può stampare lei i voti perché non ha accesso alla lista di spunto voti di libretto. Non c'è un get di quella lista. Quindi la classe testlibretto può solo fare le cose che vengono esposte dai metodi pubblici della classe libretto. Quindi se voglio stampare il contenuto, la classe libretto deve esporre, in questo caso un metodo stampa, che prende i vari voti del libretto e li stampa. Ovviamente eseguendo questo stamperemo delle cose illeggibili perché abbiamo stampato v e v è un oggetto che non ha un metodo toString e quindi vive col metodo toString predefinito che non fa altro che stampare il nome della classe e l'indizio di memoria in cui viene salvato. Di nuovo, io non vado qua a dire ma perché potrei metterevi il punto corso, no? Così mi stampi i corsi e poi magari posso prendere anche il voto, eccetera. Cioè la classe libretto potrebbe impostare la stampa andando a pescare perché la classe libretto può leggere i campi della classe voto. Ma non mi pare una buona idea, di nuovo perché andrebbe ad aggiungere una dipendenza nella classe libretto sulla conoscenza, diciamo così, dettagliata dei campi della classe voto. Se ho bisogno di stampare un voto, chiedo al voto stampati. e quindi andrò in voto e aggiungerò il metodo toString source dove è finito source genera toString in cui magari dico stampiamo questi tre campi genera e lui mi ha fatto qua in mezzo adesso scusate, lo sposto in fondo perché se no in mezzo ai getter non si vede niente, non si capisce, non li trovo più un metodo toString che per default, per come lo genera Eclipse è una cosa di questo genere è un po' prolisso ma può funzionare e mi stamperà il contenuto degli oggetti quindi sia poi in modalità debug quando li andrò a vedere, sia quando faccio le stampe è brutto, non mi piace così ma posso a questo punto modificare questo corso davanti, questo voto lo posso togliere lasciamo semplicemente il corso poi voti anziché scrivere punti magari mettiamo dunque corso fuori dalle virgolette più i punti li mettiamo tra parentesi punti il e mettiamo la data una cosa così magari lo semplifichiamo un po' per renderlo più adeguato come vorremmo vedere stampato un voto quindi adesso chiunque abbia voglia di stampare un voto si troverà questa rappresentazione che abbiamo definito noi nel toString usando bene gli oggetti ci risparmiamo tanto codice altrove alla fine la logica è quella di fare nell'oggetto giusto l'operazione giusta in modo che abbia il massimo beneficio crea il minimo costo di dipendenza e di manutenzione ok questo è il punto 1 abbiamo inserito non 10 ma 2 vabbè abbiamo letto 10 in binario oggetti vuoto a piacere e poi ci siamo aggiunti una stampa giusto per verificare che avessimo fatto la cosa giusta di nuovo ho aggiunto un metodo stampa a libretto e ciò che non ho fatto è aggiungere un metodo public list voto getvoti al libretto questo costava poco se il test libretto vuole stampare i voti potrei aggiungere un metodo getvoti alla classe libretto così la classe test si può prendere effettivamente l'elenco la lista voti più voti che la redlist e sulla stampa lei ecco io questo non lo voglio fare perché se un metodo getvoti chiunque chiami quel metodo ha l'accesso diretto accetto la mia lista di voti e può non solo leggerla per stamparla ma può farci qualunque cosa aggiungere, modificarle, cancellarle, eccetera cosa che non voglio se io sto incapsulando una struttura dati le operazioni su quella struttura dati le voglio controllare io al limite delegando in modo stupido ma delegando le operazioni che voglio io non ti do accesso direttamente alla struttura dati ok? se io ti invito accendo a casa mia quando voglio bene ma non ti do le chiavi del frigorifero e ti serve quando vuoi ok andiamo avanti al punto successivo stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25 è pari non maggiore, minore, uguale esattamente uguale a 25 ok? allora aggiungiamo qui abbiamo già un metodo stampa sarà un metodo molto simile public void stampa i 25 e quindi farò la stessa cosa in cui però ci aggiungo un if v.get. get. uguale a 25 chiusa graffa qui come si fa per rinformattare non mi ricordo mai così shift contro la F ok e quindi volendo io posso chiamare non stampa ma stampa 25 dal mio test libretto che se la matematica non è un'opinione non stampa nulla perché non ho nessun esame in cui ho preso 25 ma se avessi preso 25 di informatica dovrebbe stamparmelo stamparmelo e stampare solo quello ci piace questo metodo a me ne ha c'è qualcosa che possiamo fare per renderlo più utile più generale a costo zero sì un parametro non un attributo ok cioè questo metodo qui è cablato adentro dei numeri magici come si dice o delle costanti allora è difficile che una costante diciamo così ci sono degli elementi che puzzano nel codice vedere delle costanti nel codice è una di queste cose che puzzano che ci stanno dicendo guarda che è la stessa cosa magari la puoi fare in modo migliore Codos Mel si dice in italiano viene così quindi anziché fare un metodo che stampa solo i 25 facciamo un metodo che stampa i voti uguali a un certo voto stampa punti uguali a int valore quindi parametrizziamo questa funzione non la chiamo più solo stampa se non so cosa vuol dire allora potrò avere stampa punti uguali potrò avere stampa punti maggiori potrò avere tanti modi diversi tante funzioni diverse che fanno applicano dei filtri diversi questo è un modo non è l'unico e quindi test libretto anziché chiamare la funzione stampa 25 stampa tutti quelli con i punti uguali a 25 e 25 diventa non più cablato dentro la funzione ma un parametro con cui chiamo la funzione stessa il risultato è lo stesso ovviamente ovviamente non so aspetta vediamolo prima sì il risultato è lo stesso ma questa funzione ha lo stesso costo dell'altra è più generica se voglio stampare 27 non devo fare una funzione in più sembrerà una banalità però ogni volta che uno vede di solito delle costanti schiantate dentro il codice c'è probabilmente qualche ragionamento da fare per poterlo generalizzare che mi rende il codice alla fine più semplice è raro aver bisogno dentro il codice di costanti che siano diverse da 0 1 meno 1 e stringa vuota se vi trovate a usare delle costanti diverse probabilmente chiediamoci davvero noi ce l'avremo probabilmente delle costanti magari quando andremo a validare i voti deve essere tra 18 e 30 questo è un dato che arriva dal dominio deve essere per forza così 30 lì potrà mai cambiare? no e allora lo possiamo definire e usare ma se invece sono dei valori in cui quel 25 potrebbe cambiare? certo non ha nulla di vincolato al mondo che stiamo rappresentando il dominio che stiamo rappresentando quindi c'erano alcuni valori che sono forzati dal dominio altri valori che sono invece scelti dall'algoritmo e dobbiamo un po' abituarci a distinguerli ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso questo è l'altro punto ma è abbastanza facile significa andare a confrontare non è molto diverso dal punto 2 è la stessa cosa semplicemente prima ricercavo gli esami che hanno un certo voto e dopo invece ricerco gli esami che hanno un certo nome c'è però una differenza nel verbo prima c'è scritto stampare qua c'è scritto ricercare quindi questo metodo che creiamo per il punto 3 non deve stampare nulla deve cercare quel voto e restituirlo al chiamante poi se il chiamante vuole lo stampa se invece ha altro da farci ha altro in programma per quel voto lo usa quindi in questo caso quindi avremo un metodo che restituisce un oggetto voto ricerca voto cerca voto per nome string corso quindi restituirà un oggetto voto non mi restituisce il nome del corso non mi restituisce il punteggio non mi restituisce la data mi restituisce l'oggetto che ha tutto dentro e quindi andrò a cercarlo for voto di due punti di spunto voti cosa sta facendo con questo tastiere aperta graffa if di punto get corso uguale corso return v altrimenti return null altrimenti al fondo del ciclo for cioè vado a scandirmi la lista di corsi se ne trovo uno il cui nome di corso è uguale al corso che gli ho passato allora interrompe il ciclo ho messo un return dentro il for interrompe il ciclo for non mi serve andare a leggere oltre restituisco quell'oggetto lì se invece arrivo alla fine del ciclo senza avere trovato nulla allora devo restituire un valore che faccia capire al chiamante che non ho trovato null potrebbe essere una possibilità adesso prima di andare a ragionare sul nullo su altro c'è un errore ovviamente qua eh? con per tu non si confrontano mai gli oggetti con l'uguale ok? quando io lo confronto con l'uguale va bene solamente solamente con il trannumer interi tra l'altro quindi questi sono oggetti di tipo stringa e l'uguaglianza andrebbe a confrontare se è la stessa stringa cioè lo stesso oggetto messo nella stessa posizione di memoria invece confrontare le stringhe vuol dire richiede sempre di usare il comparatore il metodo compare to cosa manca? cosa è che non ti piace ciccio? ah giusto perché compare to restituisce un intero e qui negativo maggiore uguale negativo nullo positivo quindi per noioso che possa essere ogni volta che confronto gli oggetti devo sempre usare un metodo di comparazione esplicito sì e forse è meglio siete voi che avete urlato compare to si poteva scrivere una delle due equals quale è meglio secondo voi? so che vi hanno abituato a usare sempre compare to però adesso chiediamoci visto che ci sono entrambi i metodi allora equals cosa fa? mi istituisce un valore vero o falso a seconda che i due oggetti siano appunto uguali compare to mi istituisce un valore negativo nullo o positivo a seconda che il primo oggetto cioè quello su cui ho chiamato il metodo venga prima sia uguale oppure venga dopo il secondo ok? allora nel caso di una stringa ovviamente quelle due istruzioni sono equivalenti fanno la stessa cosa io provisco equals per due motivi uno è più corto c'è meno da scrivere e ogni carattere che scrivo in meno è una possibilità di errore in meno due esistono degli oggetti per i quali ha senso definire equals e non ha senso definire compare to perché compare to presuppone che tu sappia ordinare gli oggetti chi viene prima chi viene dopo se tu hai dei numeri complessi delle coordinate in un piano non esiste un prima e un dopo non sono ordinabili in modo lineare ma posso dire se due numeri o due coordinate sono uguali o no quindi esistono delle categorie di oggetti per cui definire un comparatore non ha senso chiaro che posso sempre scriverne uno che faccia una cosa a caso ma logicamente non ha senso mentre invece ha senso come deve essere per qualunque oggetto poter dire se è uguale o diverso da un altro ok? quindi quando ha senso definire il comparatore allora lo posso usare in modo equivalente all'equals confrontandolo con zero ma non è detto che abbia senso sempre è molto più frequente tra l'altro nel codice chiedersi se ho trovato l'oggetto se l'oggetto è uguale piuttosto che non vedere se è maggiore se è minore proprio nell'uso quotidiano quindi abituiamoci magari a usare equals che è più diretto e soprattutto è più applicabile a tutti i tipi di oggetti quindi mai usare uguale uguale e tendenzialmente preferiamo equals con per tu questo qui ok quindi di nuovo cerca voto per nome devo ancora aggiungerlo al voto vi uguale libretto punto cerca voto per nome e il nome gli passo analisi 1 1 e gli lo faccio stampare dai metto il posto giusto punto e virgola system punto out punto print line vi e poi posso fare cercare un altro voto invece su analisi 2 e provo a stamparlo mi dirà ovviamente che c'è qualcosa che non va mi stampa il nal no eternal vi piace? perché io potrei dire non l'ho trovato quindi ovviamente non è che posso inventarmelo non posso ritornarti un oggetto voto diverso da quello che cercavi solo perché non ho trovato quello che cercavi però sono in una situazione di anomalia allora a me vengono in mente due cose che si possono fare in una situazione di anomalia restituire un valore malato facilmente riconoscibile oppure segnalare l'anomania lanciare un'eccezione che ne so l'untime error voto non trovato time exception scusatemi vedete ovviamente si arrabbia perché c'è la return prima e dice che l'istruzione non è raggiungibile immagino sì è un receable code infatti quindi o uno o l'altro sono due modi diversi di terminare la funzione uno ritornando un valore l'altro invece non ritornando nulla ma sparano un'eccezione adesso l'untime exception potrebbe essere un illegal value exception insomma ma il ragionamento che volevo fare con voi è cosa sarà meglio fare ovviamente la gestione di queste due funzioni sarà molto diversa nel primo caso il chiamante a un certo punto chiama la funzione e poi farà if valore v uguale uguale null faccio certe cose dirò il voto non l'hai superato se invece non è null allora puoi usarlo stamparlo eccetera perché se lui provasse a usarlo troverà subito null pointer exception la prima operazione che cerca di fare quindi alla fine oh un exception la trovi prima o poi se vai avanti con un valore che non c'è quindi ora restituisco null e aspetto che se prova a usarlo se è furbo controlla se non è furbo se prova a usarlo si fa del male ma lo fa il chiamante oppure interrompo già io e dico ok se puoi chiedere restituisco un'eccezione lui è obbligato a gestirla questa eccezione quando chiamo la differenza non è tanto in questo codice sta nel chiamante quando io chiamo cerca voto per nome se restituisco null sta alla scelta di chi scrive questo codice il chiamante decidere se verificare o no il valore di ritorno e come e cosa fare se invece restituisco un'eccezione il chiamante è obbligato a gestirla questa eccezione se no il programma si blocca subito adesso una runtime exception è un caso particolare perché è un'eccezione predefinita ma se io mettessi un altro tipo di eccezione lì quel codice lì non compiegherebbe neppure perché il metodo dovrebbe avere la clausola di trousse di quell'eccezione lì e quindi deve essere sicuramente gestita sono due modi diversi in cui io implemento una funzione e voglio essere assolutamente sicuro che il chiamante gestisca il caso particolare oppure chiamo una funzione restituisco un valore e poi sarà il chiamante che decide di controllarlo oppure no non c'è ovviamente una regola ferrea per scegliere una o l'altra cosa come primo ragionamento io potrei dire ma allora in questo caso qui secondo me va bene restituire null ma perché tutto sommato è un caso abbastanza normale cercare un elemento e non trovarlo cioè fa parte quando dico cerca mi aspetto che non ci sia no? se no che cerca è? quindi io riserverei l'eccezione per dei incidenti diciamo così che non sarebbero non sono tanto prevedibili che sono casi erronei no? che sono casi che indicano che qualcosa è andato storto nel programma mentre invece il fatto che un metodo dia un risultato non trovi il dato che stava cercando fa parte no? del del suo comportamento cerco l'ho trovato o non l'ho trovato se l'ho trovato lo stampo e se l'ho trovato pazienza mi erano bene a dire non ci vedo il caso di generare un'eccezione per una cosa normale quando faccio una ricerca 50-50 o c'è non c'è non è che devo necessariamente quindi è più facile vederla come valore di ritorno particolare piuttosto che non come eccezione da gestire però capisco che questo ragionamento non è un ragionamento esatto è una linea guida l'importante è che noi impariamo man mano che scriviamo codice a farci delle domande e poi scegliere certi tipi di soluzioni piuttosto che altre e poi ci creiamo il nostro stile per carità però ragionando sui pro e contro delle varie soluzioni quindi in questo caso a me starebbe bene preferirei questa e ovviamente il programma di test per ora è molto stupido e quindi stampa e basta però se cercassi di usare di stampare il voto quindi avessi un get voto qua ovviamente get punti su questo e get punti sull'altro anziché stamparmi null il programma di test stamperebbe il primo voto e poi genererebbe l'eccezione il null point exception subito dopo ecco un'altra cosa che mi sento di dirvi visto che siamo nelle prime lezioni è quando vedete exception leggete il resto adesso questa è un'eccezione è solo di due righe quindi è facile ti dà la causa e ti dà il luogo non può cremare questo metodo get punti perché v è null te lo spiega proprio prova di e ti dice anche a che riga è adesso quando faremo l'applicazione con java effects quando genera un'eccezione antiché stampati due righe te ne stampa 200 no 200 no ma 50 si perché l'eccezione viene ingerata dal nostro metodo però il nostro metodo alla sua volta è stato richiamato dal controller che è stato richiamato dall'app e quindi questa senza eccezione viene rilanciata più e più volte quel che conta è l'eccezione originaria ovviamente che di solito viene stampata per ultima perché dice ah l'app è fallita per causa di il controller è fallito per causa di per causa di alla fine la causa l'ultima causa della causa principale iniziale è quella che viene stampata per ultima quindi andate a vedere l'ultima riga dell'eccezione perché purtroppo vedo persone che stanno impazzendo su una riga di code una parte di code che non gli funziona quando l'errore dice chiaramente che il problema è da un'altra parte ok quindi il debug è una brutta bestia no perché il nemico principale del debug di correggere gli errori è pensare di sapere dove sia l'errore mi concentro su una parte di code e ci metto l'errore da un'altra parte e poiché penso che sia lì e sono convinto che sia lì l'errore a volte non guardo neppure l'evidenza che mi dice di guardare da un'altra parte poi per carità il fatto che get.punti di null point interception non è detto che sia colpa dell'istruzione della riga 19 magari è colpa di come ha implementato get.punti o no scusate get.punti non è colpa di come ha implementato di come ho calcolato v o di righe precedenti però almeno devo partire da lì ok se se v è nullo get.punti non ne può niente perché non sono non arrivo neppure a chiamarla mi devo chiedere perché v è nullo è giusto che lo sia se no vado a correggere in modo che lo calcolo se sì devo controllare prima di usarlo ok togliamo get.punti e torniamo alla versione precedente creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto cioè se esiste già uno stesso esame con lo stesso voto quindi mi serve un altro metodo di libretto che verifica se esiste già una valutazione di quell'esame sì no quindi la risposta sarà un semplice booleano quindi public boolean diciamo così esiste di un certo voto di un certo voto chiamiamolo nuovo di nuovo anche qua scelgo di passare un oggetto voto e non semplicemente l'unica cosa che dovrei controllare è cos'era aspetta il nome e il punteggio giusto stesso esame con lo stesso voto eventualmente data diversa qui potrei passare il nome del corso e il punteggio ma poi mi si può passare ad un oggetto voto allora anche qua semplicemente farò un ciclo voto vi in voti se fatemi scrivere questo if vi puntico punto nuovo return vi return true l'ho trovato se arrivo al fondo del ciclo senza trovarlo return false questo sembra carino perché stiamo delegando equals confronto se il metodo equals del voto fa il confronto che mi serve però allora proviamo a ragionare sulla classe voto e se mi dicessero senti definisci il metodo equals per classi di tipo voto per due istanze della classe voto come definirei quel metodo e beh probabilmente andrei a controllare tutti i tre i campi un voto è uguale a un altro se è uguale il corso sono uguali punti uguali a data l'esame perché è l'implementazione di equals che dà meno problemi dà meno sorpresa immaginate che confrontate due stringhe ma in realtà il metodo equals confronta solamente i caratteri di posizione pari quelli dispari no salta uno sì o no è legittimo implementare un metodo di qualcosa così sì mica c'è la galera però è un metodo un po' con un comportamento un po' bislacco non prevedibile facilmente e qui ci potrebbe far comodo per questo punto che stiamo implementando implementare un metodo di equals ipovedente che vede che confronta solo il corso i punti e non guarda la data dell'esame però una volta che c'è questo metodo equals implementato se qualcun altro lo usa pensando che confronti tutti i campi che sarebbe un comportamento normale per un metodo equals stiamo introducendo dei bacchi dall'altra parte stiamo implementando un metodo standard con un comportamento che non è quello che ci aspetteremmo ok quindi io sarei abbastanza contrario a usare il nome equals perché mi ricorda un comportamento predefinito del linguaggio allora cosa posso fare? posso fare due cose anche qua oggi è la giornata delle alternative posso dire equals nome aspetta corso e punti mi invento io un nome di un metodo che farà quella roba lì oppure alternativa if v punto get corso punto equals nuovo punto get corso and v punto get punti mettiamo capo uguale nuovo punto get punti c'è o qua nel cogi vado a get corso aperta chi c'ha trova vado a estrarre i valori che devo confrontare di confronto oppure delego un metodo che ho chiamato equals corso punti che devo implementare nella classe voto che ovviamente fa la stessa cosa non è che faccia cose strane quelli sono i confronti che devo fare quindi mi chiedo solo dove è meglio metterlo oh la risposta ovviamente la sapete già dipende dipende va sempre bene come risposta per me dipende se questo metodo viene usato anche in altri punti può essere usato anche in altri punti può essere utile anche ad altri punti allora diventa un comportamento più ricco della classe voto però la classe voto non fa ancora niente è quello che chiamavamo plain old java object poggio ha solo i suoi metodi get a set ma di intelligenza non ce n'ha vogliamo aggiungere l'intelligenza della classe voto perché magari pensiamo che possa servire beh questo potrebbe essere un metodo da aggiungere oppure quello è un comportamento che in realtà ci serve solamente qui e allora cosa vado a creare un metodo in più documentarlo testarlo quando mi serve in un punto solo e qui ci sta tutto il dipende nel senso che non sappiamo come evolvere il programma allora se non abbiamo la sfera magica o meno che non si chiama la sfera magica quella che si guarda come si chiama la sfera di cristallo per vedere il futuro ne scegliamo una delle due magari quella che ci costa meno cioè meno tempo meno codice meno sbatti e questa è una seconda in questo caso se poi ci accorgessimo nel momento stesso in cui ci accorgessimo che stiamo per scrivere le stesse istruzioni da un'altra parte del codice scatta la molla dice aspetta un attimo sono già due punti in cui faccio la stessa cosa facciamo un'operazione che si chiama rifattorizzazione cioè spostiamo quell'if dentro un metodo e chiamiamo il metodo no? quindi io adesso farei così lascerei la seconda e va bene così poi vediamo se funziona se non ho sbagliato implementarla e va bene se poi in un'altra classe a un certo punto mi accorgessi che sto scrivendo il stesso codice allora passerai alla prima soluzione visto che lo uso almeno in due posti vale la pena fare un metodo e metterlo lì dentro così le più due sono almeno due magari potranno diventare tre è una funzionalità che effettivamente non è solamente utile in questo punto quindi anziché decidere subito la cosa giusta da fare cosa che non è detto che sia possibile decido la cosa semplice e poi se vedo che il programma crescendo ha bisogno di qualcosa di più lo vado a rimodificare sono proprio queste operazioni che si chiamano di refactoring in cui uno sposta il codice che c'è in una classe dentro un'altra classe per mettere magari a fattore comune di altre classi di altri utenti che possono usare quel codice da un lato cerchiamo di scrivere codici che pensi già al futuro come il disorso delle 25 non ha senso fare una funzione che faccia solo 25 dai quello lì lo vede chiunque questo è già un pochino più dubbio mi servirà quella funzionalità o no? allora se non sono sicuro se non mi costa prima quello del 25 non mi costava nulla fare la generica è lo stesso codice qua già mi costa un po' di più devo andare a modificare la classe moto eccetera eccetera e allora prendo una soluzione semplice sapendo che poi eventualmente dovrò tornarci sopra il programma è una cosa viva cresce man mano che le esigenze crescono ok tante parole per una funzionalità banale che non abbiamo ancora test scusate non abbiamo ancora messo nel mio test cerchiamo se abbiamo detto mi ricordo anche più cosa stiamo cercando ah devo creare un altro voto voto analisi 2 bis sarà un new voto analisi 1 bis analisi 2 non l'abbiamo messa analisi 1 29 e magari mettiamo una data diversa così siamo sicuri 2025 e poi scusatemi ne faccio ancora un altro che però sia diverso nel voto così verifichiamo se funziona analisi 1 ter il voto non è 29 ma è 30 quindi dirò che print line a 1 bis è duplicato sì no e qui scriverò più libretto punto come si chiamava il metodo che abbiamo appena fatto esiste voto di a 1 bis e poi la stessa cosa anche a punto di virgola la farò su a 1 ter e mi aspetto che lui mi stampi che a 1 bis è duplicato e a 1 ter no duplicato true ah questo più mi è scappato vabbè dentro la stringa e l'altro invece avendo il voto diverso non è duplicato è Grazie. In qualche modo, non solo di implementare qualche cosa, ma di ragionare, questo è un esempio semplice, sulla progettazione, sul perché fare certe scelte e anche un po' abituarci che certi pattern di programmazione, certe soluzioni, saranno soluzioni ricorrenti e poi ci troveremo ad applicarle senza più pensarci. Le prime volte ci ragioniamo, è meglio una cosa, è meglio un'altra, cosa facciamo? E poi da lì in avanti diventa un'applicazione di una soluzione ripetitiva o schematica perché in una certa condizione ci si trova meglio a fare in un certo modo. Tutte le alternativi che abbiamo visto adesso sono tutte perfettamente supportate dal linguaggio, dal punto di vista di Java, della programmazione, van bene tutte, è solamente dal punto di vista della progettazione che alcune scelte ci sembrano migliori di altre. Questo è un pochino il tema che cercheremo anche di portare avanti durante il corso. Vi lascio fare per divertimento il punto 5, che in realtà è una modifica leggera di quello che abbiamo fatto e poi invece dalla settimana prossima riprenderemo quei punti restanti. Adesso vi lascio liberi perché so che dovete attraversare poi il tecnico.